Aspetta, ora, adesso ha sciolto la cioccolata con il microonde, questa è la seconda fase, vedete ha fatto tante pallele e adesso con la cioccolata che ha fuso dentro al microonde, si può prendere o al latte o al fondente, come piace? Come piace a voi, questa è al latte, anche bianco però, no no, se si vuole sì, ma bianco non credo che sia difficile, poi se mette sopra un po' così in teoria dovrebbe cadere da sola, però secondo me non gli basta per tutto, tanto facciamo quelli che basta, poi chi vuole può mettere di più cioccolata logicamente, la mia moglie va a risparmio perché è nanonese, no perché mi piace vedere il marron glacé, Ah, che piace vedere, marron glacé, non glacé, glacé, lei come si dice? Che è sto glacé? Ecco, mi piace vedere un pochettino di questa castagna, mi piace vedere che sia castagna, mi piace. Mi piace vedere la castagna, a me non piace vedere niente perché a me non mi piace. Scusa, per quello non vado vicino. Poi una volta che è finito con il cioccolato si mette sulla panna, noi scegliamo il dolce neve perché rimane bella dura la panna, non è come quelle altre panna tutte molle, la dolce neve è veramente ottima. È una busta, è una busta, dopo ve la faccio, dobbiamo vedere se ce l'ho ancora la busta. Eh, non ce l'hai la busta. Che si vende... Comunque si chiama dolce neve, andate al supermercato e la trovate. In Alto Adige la trovate al Despar, in giù la trovate al Craipi, Scraido, Scraio, che cavolo. No, non c'è il Dollaro, c'è il Penny, c'è Lupim, c'è Smac, c'è Smoc, quanti cacchi che ne sono io non lo so. Però il Carrefour trovate? A casa mia no, perché appena arriva finisce. comunque è buonissima perché rimane bella, densa, dura ed è veramente ottima ehi, mia moglie ha bucato gli scappa la pallina guarda che drillo guarda guarda con che semplicità che fa le cose mia moglie, mamma mia da quando gli ho insegnato adesso batte pure il maestro porzolana qua si dice porzolana una nuova parolaccia che semplicità ecco con la 2, 1 l'abbiamo detto che abbiamo sciolto la cioccolata nel microonde si l'abbiamo detto amore mio degli altri ecco ecco fatto appena la cioccolata si raffredda si può mettere la panna io la metterei direttamente in frigorifero così si raffredda si endurisce prima tanto non gli è basta ma le continua quello che posso faccio io avrei messo più cioccolata comunque a lei che piace vedere il marone ci vuole il gusto anche della castagna mamma mia è tutta una castagna poi c'è anche la panna devi pensare che io non ho pensato vedete vedete ecco questa qua sicuramente interessa alla mia cugina Rina Pina Pineto e a qualcun altro forse non lo so a chi piace le castagne a chi piace le castanze cotte però cotte a cinzia zuani cotte cioè a vapore diciamo cotte a vapore ma che vapore nell'acqua Daniela fa la finita cotte con la pentola a pressione o la mezz'ora lo ripeto o anche con la pentola normale o anche con la pentola normale metti un coperchio con 20-30 kg sopra così diventa pressione la cioccolata è finita così ho finito anche il lavoro ecco la cioccolata è finita per adesso così per adesso ho finito il lavoro perché dopo gli aspetta ancora quelle queste codeste ecco adesso se la magna ecco fatto caspita non la maniata no perché non sono buone così bisogna aspettare che sia la fredda non è per niente buone così credibile proprio no ecco adesso possiamo finita adesso la faccia soddisfatta vuoi farmi vedere quelle con la panna? la faccia soddisfatta del mio amore ehi mannaggia un momento solo un momento aspetta Carmine ecco qua alla fine diventano così con la panna alla fine diventano così con la panna stai ferma sì con la panna con la panna con la panna del zucchero vedete la faccia soddisfatta di mia moglie che non ride neanche a momenti che me lo abbatto ok finito chiudo ciao grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti